scusa ma che detersivo us per lavare i piatti? svelto che detersivo us per lavare i piatti? svelto che detersivo us per lavare i piatti? mi chiami mi chiami e non è come te tre po' svelto tre po' non si sa non lo sa manco lì ho comprato la macchina nuova no dai stiamo sulle spese tu ti compri la macchina dai amore è una panda ma vabbè la panda non è male quattro per quattro 16 16 sì qui in matematica la geografia è freccata ma in matematica la grande è sempre andata sempre il complimento amore buona marciallo immondizia immondizia aspetta no ce ne abbiamo già sai torno domani ciao allora bene siamo buona salve mamma mia c'è come c'è l'abbiamo bevuto vero? io sì voi non lo so io non stavo con voi tu hai bevuto? io no e tu? no vivete mannaggia te senti ma non è che tu sei uno di quei cafoni che quando vede una donna brutta glielo dice? perché ti ho detto mai qualche cosa a te? specialmente a te ne? la tua macchina è stata vista parcheggiata più volte davanti al al sexy shop che devo fare? devo parlare con la madre superiore? e magari e dille di farsi la patente così non la devo più accompagnare io va bene? ieri due volte ho voluto andare due collega alle cinque sei libero oggi pomeriggio? eh oggi si allora vieni a casa mia mi dai una mano per piacere perché a disposizione che devo fare? sto scrivendo un libro su me stesso ma io che c'entro? mi è arrivata la spalla non riesco a scrivere ho provato ma scommetto che sei anche laureato? si io sono laureato ho fatto la tesi sulla lotta alla corruzione e mi sono laureato e con quanto? 1.000 euro quello è 1.500 oh quella crisi che sta in 1.500 oh piano hai fatto un appare? ehi andiamo appare quale il problema incombe? dondino non so più che pesci prendere quante volte è successo a me e che hai fatto? ho comprato la porchetta oh l'altra niente quella è scusi si quanto ho letto? Sorina per lei gratis l'omaggio regalato pure adesso pure bocce io le ho permesso due ore